Da un'idea del signor Ikea in una scuola per artisti. E dovete sapere che da adesso in poi la vostra strada non sarà più facile come è stata finora. Voi all'interno di questa scuola vi dovete dare da fare, da me. Questa scuola è proprio qui perché vi permette di raggiungere i vostri sogni. Tutto quello che avete sognato finora. Suonare la chitarra, recitare, ballare. Bene, qua è possibile raggiungere tutte queste cose, tutti i vostri sogni. Ma non sarà più facile. No. Dovrete faticare. Allora, ci saranno dei momenti in cui penserete che non ce l'avete di fare. Allora magari avrete voglia di tornare alle vostre solite vite, dicendo ma chi me lo fa fare? Io non sono fatto per queste luciane. Ed è proprio qui che vi voglio. Qui dentro ci saranno solo persone che hanno voglia di sudare, di allenarsi giorno dopo giorno. Dovrete avere pazienza perché non è sempre andato tutto bene. E no. Qualche volta magari il corpo non si fonderà come voi volete, come voi vi aspettate. E allora vi arrabbierete. No. Ma magari ci saremo noi, noi professori. Noi li aiuteremo. Noi siamo qui per voi. Siamo qua per tirare poi i vostri talenti. Noi li aiuteremo, ma voi ci dovrete dimostrare che avete coraggio, che avete pazienza. Pazienza nell'allenare di giorno dopo giorno. Coraggio nell'affrontare dei suoi geni più difficili. Un talento non è una cosa che viene a morire così. Un talento bisogna per privarlo. E quindi, voi avete la possibilità. Fate i crassi. È questo che proverete giorno dopo giorno. La strada di successo è lunghissima. Occorre sudore, pazienza, coraggio, grandi idee, grandi ambizioni, volontà, unità, concentrazione, allenamento, costanza dell'allenamento, una marcia in più. Scusi professoressa, sono le otto. Noi avremo anche una certa fame. Fame. Saranno famosi. Una seriosa morto-bord. E con la partecipazione di Riberti Miretti, Chris Treft, Superstram, Ruben Chamin, Betta Cavall, Klerb Krish, Mirko Strino. A settembre, nei Cessi. Ass 맛있는 sure. I love you. Come and then. And you can set it free.